La nuova edizione del Grande Fratello è pronta a sorprendere il pubblico con un cast che promette scintille e grandi emozioni Sono 15 concorrenti VIP che barcheranno la famosa Porta Rossa, un mix variegato di personaggi che spazia tra ballerini, attori, modelli, cantanti, showgirl e volti noti della televisione Tra questi, il più celebre è senza dubbio Enzo Paolo Turchi, icona del mondo dello spettacolo italiano, ma non mancano altre personalità molto conosciute dai fan di Canale 5 Il pubblico potrà infatti ritrovare volti noti come Clayton Orkross, l'attore che interpretò il personaggio di Turning Beautiful, e Iago Garcia, celebre per il suo ruolo nel Segreto A rappresentare il mondo della danza, invece, ci sarà Shy Lagatta, ex ballerina di Amici e velina di Strescia La Notizia Dal mondo dei reality show media set arrivano anche Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island E a Pierre Martinez, noto al grande pubblico come tentatore nello stesso programma e volto di uomini e donne Non mancano le sorprese, come la partecipazione di tre ex cantanti di Nona Ella Rai, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, che concorreranno insieme come unico concorrente Il trio, noto negli anni 90, farà certamente leva sulla nostalgia dei telespettatori più affezionati A completare il cast VIP ci sarà anche Elena Prestes, già vista lo scorso anno all'Isola dei Famosi Ci sono poi nomi che potrebbero risultare meno familiari ai fan di Canale 5, ma non meno interessanti Luca Calvani, attore cinematografico e volto di Real Time, e Clarissa Barth, modella e attrice popolare negli anni 2000 Sparita dai riflettori da tempo, ma ricordata per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2010 Giulia Mannucci, influencer e ex concorrente del Collegio, e Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazzosa e presenza fissa nel salotto televisivo di oggi e un altro giorno su Rai 1, aggiungeranno freschezza e dinamicità al gruppo Uno dei partecipanti meno conosciuti sarà Lorenzo Spolverato, attore che, per mancanza di ruoli significativi negli ultimi anni, rappresenterà la vera incognita del cast Ma non ci saranno solo VIP a movimentare la casa del grande fratello A loro si uniranno anche dieci concorrenti non famosi, portando una dinamica interessante tra celebrità e persone comuni Tra i non famosi, uno dei primi nomi già trapelati è quello di Michael Castorino, mentre gli altri nove concorrenti saranno svelati nel corso della prima puntata Amedeo Venza, noto esperto di gossip, ha anche anticipato la possibile partecipazione di un panettiere romano, aggiungendo un ulteriore tocco di curiosità alla composizione del gruppo Questa edizione si preannuncia ricca di colpi di scena e di interessanti dinamiche tra personaggi molto diversi tra loro Tra ritorni nostalgici, volti noti del piccolo schermo e nuove figure pronte a farsi conoscere, il grande fratello promette di regalare, ancora una volta, momenti indimenticabili